Salve a tutti amici e bentornati qui su... Quei due sul server Oh... Come sapete non siamo grandi appassionati di certe tipologie di giochi In realtà non giochiamo molto spesso ai giochi di corsa Infatti le macchine proprio... Ma, ma, ma ci sono dei giochi particolari che comunque ci accursano l'ingegno Sì Infatti mi sembra ieri che con la mia PSP andavo in giro per le strade assoleggiate di Burnout Spaccando vetture, insomma... Facendo incidenti cinematograficamente perfetti perché partivano dei rallenti fantastici Ed ecco perché approfittando di un bel humble bundle, di una bella promozione Ci siamo appropriati di questo Burnout Paradise City È un porting E noi i porting ci stanno sul cazzo Soprattutto quando sono fatti col culo Questo è uno di quei porting fatti col culo Non tanto dal livello grafico Anche se, dobbiamo dire, che le prestazioni visive del gioco rallentano con determinate schede video Quindi anche qui dipende da schede video che avete Ma ad esempio nel menu Quando cazzo mai vi siete mossi con F1 ed F2 tu mi devi spiegare Non hanno neanche tolto i dorsali del gamepad Perché non rendete i tutorial skippabili? A me non me ne fotte un cazzo di sapere che cosa devo fare Lo voglio scoprire e mi dovete mettere il tasto skip da qualche parte Divendo incazzoso se non mi fate skippare Però ci sono tante auto eh Però ci sono tante auto e ci sono diverse modalità di gioco Ok? Allora, la modalità a cui noi siamo più affezionati è una modalità forse la più ignorante Furia stradale Dovete sbattare contro i nemici e farli uscire fuori in strada Perché Paradise City? Perché si chiama Paradise City? Perché il paradiso per chi vuole ammazzare e distruggere le automobili come Dio comanda proprio Sì, ci sono anche degli accenni di trama, degli accenni di costruzione Adesso Va beh, insomma, all'inizio siete in uno spasciacarrazzo e dovete comprarvi l'auto Già questa trama è profonda Dopodiché E poi entri nel gameplay e capisci che di profondo non c'è un cazzo Come no? No, non c'è assolutamente Allora, devi aggiustare, devi andare dal meccanico Tu dal meccanico quando ci lasci una macchina ci stai almeno due mesi Cioè per aggiustare una macchina nelle condizioni dello sfasciacarrazzo ci stai un paio di mesi Lì invece ci passi Nel momento in cui ci passi la macchina torna tutta apposta e finita Però è comunque un elemento di trama In più sei andato dal meccanico, hai messo benzina Andiamo a cambiare verniciatura alla macchina, no? Anche questo, comunque dovete andare dal carrozziere Prende un po' di tempo Passi in questo, nella carrozzeria E la macchina ti si dipinge di un colore Così a cazzo di cane Non te ne frega di quel colore Magari ti fa schifo quel colore Vabbè ragazzi, stiamo scherzando Ovviamente queste sono meccaniche super semplificate Che portano a una sola cosa Buttarvi sulla pista e fare casino Sì, è quella la cosa bella di questo gioco Potete correre tutto il tempo Andarvi a schiantare Tant'è che la prima macchina che prendete Va già velocissima Sì 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 sì, anzi ragazzi C'è da segnalare una cosa In questo gioco praticamente ogni cosa che fate Dallo scorreggiare mentre siete in auto Al colpire un cestino dell'immondizia Vi sblocca degli achievements Così, come se piovesse Sì sì, ad esempio ci sono solo Solo 500 cancelli da buttare giù Per farvi un esempio così Alla buona Per dire no Purtroppo ragazzi Questo gioco Pecca un po' di ripetitività Dopo un po' Perché insomma Non è un gioco Che è più un arcade Ci sono sempre le solite gare C'è la gara testa a testa C'è la gara dove devi evitare di farti ammazzare dagli altri Dai veicoli che ti vogliono far sbattere contro oltre altre macchine Oppure distruggerli in qualche modo O la gara normale che conosciamo tutti Purtroppo questo gioco È un gioco È ignorante È divertente È un gioco fatto apposta Per perdere qualche minuto Magari Giocando senza pensare troppo No Però Ci sono delle meccaniche Che sono veramente un po' troppo Zunzerellone Infatti Dopo un po' stanca Le collisioni Sono sì divertenti Sono spettacolari Ci sono dei rallenti Dei momenti Dei salti Degli impatti Però gli impatti Per dire Quanto sono reali da un accento? Una volta su 100 Beccate l'impatto giusto Ovvero quando vi schiantate Contro un muro Quello è sempre esatto Delle altre invece Si fa un po' come cazzo Sì Si pare Soprattutto nella modalità furia stradale La vostra macchina Ha la massa di un meteorite Che arriva correndo da Marte Distruggete qualsiasi cosa Non si capisce Perché voi neanche un graffio vi fate Insomma ci sono È però un gioco divertente Prendetelo Giocateci Correte su queste piste E non lo fate magari in strada Perché sennò ammazzate La gioco per sfogarsi La segnaliamo anche Però è una feature Che abbiamo provato molto poco Perché insomma Abbiamo È anche una DLC Quindi ci sono anche Tantissimi DLC Da scaricare Nuove piste Eccetera eccetera Quella Abbiamo anche le moto Però ce le abbiamo provate Davvero pochissimo Perché Una volta che hai giocato Così tanto con le auto Arrivi a sbloccare le moto Cambia Stai su due roti Invece che in quattro Praticamente Mmm Ed Eccetera darkness